e signori oro ed ossa capitolo 21 il penultimo di questo primo atto di uncharted drake's fortune e vediamo a cosa andiamo incontro ragazzi siamo qua con sali dobbiamo andare a salvare elena speriamo non l'ammazzino raga perché sarebbe tipo un colpo bruttissimo ed è una lotta continua signori una lotta continua che non si ferma mai ok e che c'è qui niente giù scheletri 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 oggetti appesi e cose varie qua c'è più luce magicamente ma c'è anche elena attenzione dovreste aver capito ormai che è un piano per qualsiasi evenienza ora mettete giù le armi lì a terra niente eroismi per favore altrimenti la ucciderò bene ora se avete un po di pazienza saremo da voi tra un istante è straordinario che maestria non ho mai visto niente di simile prima e questo è solo l'esterno il vero tesoro di eldorado è all'interno grazie dell'informazione questo è il tesoro a puzza di morto cosa ecco come si trasformano c'è i cordiseps lì dentro navarro quella cosa ha spazzato via un'intera colonia non sai quello che stai facendo sbagliato io sono l'unica persona su quest'isola che sa cosa diavolo sta facendo sicuro cargala e statua cuidado siete così patetici vuol dire attenzione cuidado i vostri insignificanti tesori avete una minima idea di quanto questo possa valere trovando il giusto acquirente è un cazzo alzatelo i goblin sono gli spagnoli non sono mai andati via grande Sally se quello lascia l'isola devi fermarlo io ti copro da qui vai in seguito eh allora seguiamolo di qua si Sally meno male mi coprivi eh questo è ancora vivo adesso è morto via via qua c'è qualcun altro che spunta via non fateli ciao mo dove vado aha così adios amico lo dirotta ne sono sicuro grande Elena aia ci si schianta battaglione sulla nave battaglione finale battaglione finale ragazzi questo è culo no matelo uccidilo dopo matelo sarebbe uccidetelo ma vabbè la resa dei conti capitolo 22 sarà tosto aia